12 ore di fatica nelle ossa e a casa non riportano nemmeno quel tanto che basta per non morire di fame. Eppure le reti, quando le hanno tirate su, erano piene. Ma dopo le 7.750, sembra molto, siamo. Cosa vogliamo stare a montare? Ieri vicino non c'è mai arrivato. Ma se il mare vuoto io sembra così, zizza, stendo, dormolino. 20 anni che vado al cinema. Non ho visto mai un basso. Che ti dico? E quando mai? Quando mai? Hai tutto quello che volevi adesso. Con il nodo! Che ti dico? Grazie a tutti. Grazie a tutti.